In un comunicato dell'Assemblea Territoriale di Partinico, Tribunale per i Diritti del Malato, leggiamo In questi giorni si sta avviando in Sicilia l'ennesima significativa riforma dei servizi ospedalieri e il terzo progetto di rete ospedaliera che vede la luce nell'arco di tre anni e che ha visto l'ospedale di Partinico interessato mediante la rifunzionalizzazione al ribasso di alcune strutture operative. Dalla tabella di rete ospedaliera che circola, pare che i reparti di pediatria, ginecologia, ostedrice e psichiatria vengono deglassati da strutture complesse in strutture semplici con perdita del rispettivo primario e dell'organizzazione che da questo consegue. Analoga sorte, subirebbe anche la direzione sanitaria dell'ospedale che sostanzialmente potrebbe dipendere da una struttura dipartimentale collocata in un altro ospedale. Quali siano state le ragioni di tale deglassamento non è dato sapere. Se ancora compariamo la organizzazione dell'ospedale di Partinico che esce fuori dalla tabella pubblicata con ospedali analoghi sotto l'aspetto del numero degli abitanti serviti, del numero degli accessi e del numero delle prestazioni effettuate, questo depotenziamento risulta veramente incomprensibile se non arbitrario. Cittadinanza attiva, Tribunale per i diritti del malato di Partinico non ci sta. Sappiamo per certo che questa articolazione provocherà enormi disservizi, notevoli disagi e un deficit dell'offerta sanitaria enorme e non sopportabile per una popolazione dimorante nell'area del Golfo di Castellammare che soprattutto d'estate per la presenza dell'aeroporto Falcone-Borsellino supera abbondantemente le 160.000 unità. Per queste regioni invitiamo il Sindaco e il Consiglio Comunale che rappresentano i bisogni e le aspettative di tutta la nostra comunità, tutte le forze politiche e le associazioni civiche e professionali ad allertarsi per contrastare questo disegno di depotenziamento dell'ospedale e avviare confronti con le autorità regionali della sanità. Auspichiamo la costituzione di un comitato civico per la difesa dell'ospedale di Partinico che individui iniziative ed azioni finalizzate alla salvaguardia del diritto alla salute del nostro comprensorio. Noi ci attiveremo in questa direzione. Al firma del coordinatore del Tribunale per i diritti del malato di Partinico, Andrea Supporta.